Nella poetica notte di Ferragosto, il santuario d'Europa si è illuminato di mille lucine, le vivide fiaccole dei fedeli che come ogni anno sono accorsi nella casa di Maria per omaggiarla nella festa della sua assunzione in cielo. Sono più di 500 i fedeli che, uniti in preghiera come un cuore solo un'anima sola, guidati dai canti mariani dalle riflessioni del canonico Berchi, sono saliti dai cancelli lungo tutto il santuario alla Basilica Nuova, dove hanno potuto rivolgersi alla Vergine Bruna, incoronata come regina d'Europa con canti di sincera devozione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.